Benvenuti sul canale, prima di continuare lascia un like ed iscriviti al canale. Giovanotti, l'amato cantante nel cuore del pubblico, è stato vittima di un brutto incidente in bici, durante la sua vacanza nella Repubblica Dominicana. Mentre percorreva una strada, si è scontrato con uno spartitraffico, causando una caduta, che ha portato alla rottura del femore e della clavicola. Il cantante ha condiviso con i suoi fan su TikTok i momenti successivi all'incidente, mostrando il suo viso preoccupato, mentre riceveva assistenza medica immediata. Raccontando l'accaduto, ha rivelato di aver subito un volo, bastardissimo, a causa della sua disattenzione nel notare lo spartitraffico. Ha temuto di aver danneggiato anche il bacino, poiché non riusciva a stare in piedi. Dopo essere stato portato in ospedale, Giovanotti ha confermato di aver subito una frattura al femore, in tre punti, provocandogli un dolore insopportabile. Tuttavia, ha rassicurato i fan, spiegando che l'intervento chirurgico, per inserire un chiodo di titanio è una procedura comune, e che si prevede un recupero completo, anche se richiederà un po' di tempo. Il cantante, ha elogiato la prontezza e l'attenzione dei soccorritori dominicani, sottolineando come abbiano dimostrato gentilezza anche offrendogli un cocco, mentre aspettava l'ambulanza. L'intera comunità di fan e ammiratori di Giovanotti, si unisce nel mandare i migliori auguri di pronta guarigione al cantante, sperando di vederlo presto tornare in piena forma, e sul palco a regalare la sua inconfondibile musica e carisma. Per continuare a essere aggiornato su nuove news ogni giorno metti un like ed iscriviti al canale.